L'agenda 2024, la mappatura di partire, credo che per arrivare a fare un'agenda di sviluppo che tracci in qualche maniera le direzioni dei prossimi anni, per questo bisogna partire da una mappatura dei sogni, delle aspirazioni delle persone che già oggi sono qui e da una visione di quelli che sono i trend di futuro, da una visione di dove sta andando il mondo, dove sta andando il pianeta e cercare un punto di raccordo che sia il migliore per muovere gli interessi e gli animi e gli spiriti della popolazione qui in Friuli per raccordarla a quelle che poi sarà il futuro che ci aspetta. Se riusciamo a fare questo e troviamo una condivisione, perché alla fine poi questo accontenterà qualcuno o scontenterà qualcun altro, però se ci sarà una condivisione e avremo la forza di crederci, ecco credo che l'agenda 2024 possa rappresentare una grande opportunità per questo territorio.